La gioielleria Petroni festeggia 50 anni di attività. Vieni a scoprire le proposte per i tuoi regali di Natale. Orologi gioielli in oro e argento delle migliori marche come Liugio, Uno R, Osa gioielli, Brosway, Morellato e Braille. E una vasta scelta di alta gioielleria in oro e diamanti, targata Mirko Visconti. Puro artigianato, lavorazioni su misura, con attenzioni al più fine dettaglio. Gioielleria Petroni, dal 1970, la tua gioielleria di fiducia.